La Maratona d'Annunziana rappresenta uno degli eventi più importanti dello sport per la città di Pescara, un grande evento che coniuga sport, solidarietà sociale e importante anche dal punto di vista ambientale perché le strade del centro di Pescara saranno chiuse al traffico durante la manifestazione. Io credo che la Maratona d'Annunziana rappresenta uno degli eventi clou delle manifestazioni sportive che si organizzano a Pescara. È la sedicesima edizione, quindi questo ha significato il grande valore che sta assumendo nel tempo, non solo dal punto di vista numerico ma anche dal punto di vista della qualità dei partecipanti. Questo ha significato anche il percorso scelto in maniera oculata dagli organizzatori. Il nostro piacere è anche legato al fatto che si riescono a coniugare tante cose perché quest'anno, ancora di più rispetto agli altri anni, c'è una grande valenza anche sociale. Il Comune anche parteciperà in qualche maniera perché cercherà di sensibilizzare la cittadinanza all'affido familiare che è uno strumento molto importante che noi dobbiamo cercare di far conoscere di più a tutela dei bambini e delle famiglie che è affidatarie. Ma poi sono presenti anche tante altre associazioni che operano nel sociale, per cui connubio sport sociale, credo che sia quello che fondamentalmente a noi interessa. Ringrazio la WISP che in ogni caso è sempre presente in queste iniziative e quando c'è una finalità sociale dà sempre segnale della sua presenza e per noi è importante ed è un partner significativo per quanto riguarda le nostre attività. Sedicesima edizione della Maratona Danunziana, una manifestazione che cresce anno dopo anno. È partita un po' in sordina, adesso sta crescendo, ma la cosa bella è che cresce veramente un po' su tutti i settori. Potremmo dire che si chiamava Maratona di Pescara perché è partita proprio da un evento agonistico e adesso sta diventando la Danunziana proprio in assoluto perché sta crescendo molto sul sociale, cresce molto la partecipazione dei pescaresi, diventa sempre più pesante anche la gara dei bambini che comunque sia una gara vera e propria, riusciamo a premiare tutti sul palco, quindi un evento nell'evento.